Al mondo non esistono due voci uguali, come l'impronta digitale. La voce è uno di quegli elementi che ci identificano, ci definiscono come esseri umani, unici e irripetibili. Quando mi dicono che lavoro fai, dico io faccio un lavoro molto semplice da spiegare, faccio compagnia a qualche milione di persone. Una buona intervista è una, mi piace dire così, una via di mezzo tra una seduta di psicanalisi e una bevuta al bar. L'arte di fare radio è la mia guida qui su Competezza. Sono Ros Pellecchia e vi aspetto.